buongiorno a tutti anzi buona mattina perché più o meno siamo quasi alla mattina mi sono visto tutti gol un paio di volte della quinta giornata del campionato di serie a certo non è come vedere tutta la partita ma sarebbe da suicidio io infatti ammiro molto quelli che stanno a vedere le partite di cui sai già il risultato e ti guardi tutta la partita io francamente la partita mi piace o la vedo in diretta o è la partita della mia squadra che non ho potuto vedere in diretta allora me la guardo anche se so già il risultato come succedeva ahimè quando c'è stata l'Europa League perché lavoravo e quindi non mi facevo dire il risultato e quando finivo a mezzanotte tornavo a casa mi vedevo la partita e davo i pareri e quindi ahimè sapevo già che la finale l'avevamo persa perché non c'è stato bordello comunque veniamo a le partite della quinta giornata perché veramente ne sono successe di cotte e di crude partendo subito dalla partita di venerdì sera sassuolo torino un 3 a 3 clamoroso che ripeto mi ha fatto anche prendere le due bollettine visto che sassuolo torino era incentrata le due bollette c'erano le due partite degli altri campionati due partite di altri due campionati che giocavano gli anticipi con la partita del sassuolo le altre due partite con la partita del sassuolo con due risultati diversi avevo in uno l'over un e mezzo quindi era presa già subito e nell'altro avevo l'1x più over e fortunatamente hanno pareggiato proprio all'ultimo minuto perché l'inetti ha portato un vantaggio il torino poi ha segnato giurici col colpo di tacco sotto su un cross deviato eccetera arrivata alla palla lui ticcol tacco un golasso e quindi 1 a 1 poi però belotti e luchic luchic hanno messo la situazione sul 3 a 1 però il sassuolo non muore mai e prima krischels che ha segnato un gol pammelo a pigliare e poi ciccio caputo che ha pareggiato facendo 3 a 3 poi c'è stata la sorpresona di questa sandoria che vabbè il primo gol è contropiedone passa la palla doveva cambiare passare la palla al compagno sulla fascia finisce a quello che è in mezzo che chissà come non inciampa eccetera ma riesce a stoppare il pallone e poi gli passa la palla al compagno poi alla palla arriva quagliarella finta controfinta 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 un'altra finta tiro sotto l'incrocio col povero portiere dell'atalanta che manco l'ha visto poi ha segnato il gol di testa sto tosby che mi ricorda uno dei giocatori di fuga per la vittoria biondino eccetera e hanno dirato lì colpo di testa in tuffo ha accorciato le distanze zappata dopo essersi preso un calcio in pancia calcio di rigore ben realizzato e poi a quasi fine partita janto in contropiede gliel'ha messa lì e poi ha aperto come si suol dire il piatto e l'ha messa nell'angolino e quindi l'atalanta ha perso 3 a 1 con la sandoria il mio collega mi ha consigliato io credo che l'atalanta finirà per vi investeremo a vedere non dico niente veniamo a lazio bologna lazio bologna prima luiz alberto azione personale palla sotto l'incrocio poi ciruzzo mio su una bella rovesciata di fare spercare la sto pallone che sta per uscire in dall'area di rigore dal dal campo praticamente c'è sto pallone che rimbalza lui fa una rovesciata riesce a metterlo in mezzo di rovesciata di testa immobile mette il gol del 2 a 0 poi santander all'ultimo minuto serve silvestre ormai siamo nei minuti di recupero per il gol del 2 a 1 di de silvestre che non ha perso il vizio di di segnare dicevamo partite di domenica partita di mezzogiorno sei gol anche lì perché bisogna esagerare cagliari crotone io vi dicevo questo cagliari non c'è questo crotone non molla perché passa in vantaggio con messias lico gianni si inventa la punizione del della domenica mezzogiorno la mette nell'incrocio poi simeone in contropiede segna il gol del 2 a 1 dormita generale dei tre centrali del crotone lui ci passa in mezzo bello tranquillo e se ne va in porta poi pareggia molina con un bel tiro da fuori su un calcio d'angolo la parola gli arriva al volo con il povero cranio che rimane lì come non l'ha manco vista della serie non l'ho manco vista poi il crotone resta in 10 e il cagliari di raga prima con sottile poi con con gioao pedro che la mette sempre gioao ormai è abbonato al golo ogni domenica puf la puccia poi c'è l'altra sorpresa parma spezia con uno spezia che va 0 2 prima con sciabotte poi con agudelo poi però gagliola accorcia già le distanze nel primo tempo e poi ci pensa cucica proprio all'ultimo minuto a battere il rigore vincente del 2 a 2 e anche lì mi è andata bene perché avevo l'uno i spiovere e quindi mi è andata bene veniamo al derby dei fratelloni insigne benevento napoli segnano tutti e due prima segna insigne su un passaggio di la padula perché se lo sono dimenticati perché insigne entra in aria no alla palla poi finisce alla padula la padula la prende lui rimane lì bello tranquillo i difensori del napoli manco se lo cagano più la palla arriva a lui bello tranquillo appostato sul primo palo che comodamente segna poi nella ripresa pareggia l'altro fratello però che gioca nel napoli con un tiro a giro che termina proprio a baciare l'incrocio dei pali poi rimbalza sulla oltre la riga di porta rientra in campo ma la palla era dentro e poi petagna sul passaggio di politano ben servito in area segna il gol del 2 a 1 per un apolo veniamo all'altra partita di domenica fiorentino udinese anche qui balanga di gol perché prima segna castrovilli poi raddoppia milenkovici poi accorcia le distanze okaka poi risegna ancora castrovilli tra l'altro due assist del signor biraghi che quest'anno mi sa fa il record di assist non lo so da quando la fiorentina è ritornato a fare il fenomeno con noi era mister 5 e mezzo con la fiorentina gioca bene si vede che riescono a rivalutare i giocatori perché anche dalber nella fiorentina giocava bene e infine okaka segna il gol inutile del 3 a 2 però quest'udinese non è mai doma comunque perché questa è la dimostrazione che l'udinese anche sotto ci prova ci prova quest'anno l'udinese se la gioca con tutte ma se se la stanno giocando tutte sarà un campionato in cui anche le migliori se non sono al 100 per cento rischiano e infatti juventus verona cosa succede una juventus che attacca 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 non trova il gol lo trova il verona tra l'altro l'ho visto il gol del verona è stata un'azione bella del verona con la difesa della juve schierata ma fabilli si inserisce proprio bene su quel passaggio e la mette nell'angolino la juventus attacca attacca trova gattone silvestre che para tutto perché questo è un ottimo portiere questo ragazzo però alla fine si deve arrendere al tiro al bacio proprio di quei tocchi morbidi nell'angolino che mi piacciono tanto non quei tiri loffi che praticamente dicono guardate te lo metto lì no io te la metto lì tu non la vai a prendere ecco questi sono i tiri che a noi piacciono tanto e infine giustamente milan roma poteva stare indietro agli altri cioè hanno segnato tutti i valanghe di gol e milan roma la valanga di gol prima segna ibra allora lancio lungo il difensore della roma non la prende lui si inserisce il portiere va a far falle perché pensa di andare a bloccare il pallone su quel lancio non si rende conto che sta arrivando i bremovi quindi si è già tuffato per prendere la palla i bremovi ci mette il piattone proprio questa la pianta del piede e praticamente anticipa il portiere che se è tuffato dall'altra parte porta vuota lascia che il pallone entri dentro poi giustamente siccome ha fatto la pa per un portiere vuoi che non la faccia l'altro calcio d'angolo tatarusano va a far falloni zecco dice sei andato a far falloni io te la schiaccio dentro di testa avete presente quei gol che ogni tanto si vedono anche nel vecchio fifa di tanti anni fa no che partiva al cross vedevi il portiere che usciva la prende la portiere invece spuntava l'omino che la colpiva di testa e la mandava dentro e quindi zecco pareggia leao si inventa l'azione sulla fascia doppio passo eccetera cross basso arriva sulle maker palla sotto l'incrocio 2 a 1 per il milan poi ci sono i due rigori uno più ridicolo dell'altro ma un rigore per uno non fa male a nessuno prima veretù lo trasforma poi ibra lo trasforma tirato uguale tirato uguale a domenica scorsa solo che stavolta il portiere è andato dall'altra parte e poi c'è il pareggio di kumbullà però vorrei capire chi è che ha prolungato su quel calcio d'angolo mettendoci il piedone il pallone che permettesse poi a kumbullà di essere bello libero sul secondo palo proprio perché con quella deviazione ha messo fuori causa il portiere e gli altri compagni di difesa e mi sa che è stato ibra e mi sa che è stato ibra a metterci perché poi dopo si è guardato intorno come a dire ups ho fatto ho fatto la sciocchezza perché non ho ben capito chi erano i due giocatori sul primo palo che hanno toccato quella palla che si è impennato ulteriormente andata sul secondo palo e kumbullà col piattone da un passo ha potuto tranquillamente pareggiare il 3 a 3 detto questo andiamo a vedere come è adesso la classifica della serie a che si fa molto molto interessante perché abbiamo il milan primo a 13 punti poi il napoli al sassuola 11 attenzione al napoli perché se gli fanno ripetere la partita con la juve gli rendono il punto che gli hanno babbato potrebbe andare a pari col milan a 13 però siccome non si sa quando decideranno eccetera se la partita va rifatta non rifatta se hanno fatto ricorso non hanno fatto ricorso eccetera non ho ben capito cosa succederà vedremo o magari hanno già deciso e la lasciano così però comunque il napoli zitto zitto cacchio cacchio con quattro punti sgraffignati in meno perché gli hanno sgraffignati anche per colpa di de laurentis che ha deciso di non partire però è a 11 punti a pari col sassuolo poi l'inter è a 10 bella tranquilla a tre punti dal milan quindi l'unica differenza è stato il derby la juve l'atalanta e la sandoria sono a 9 e se la juve atalanta può essere normale che sia anzi la juve dovrebbe essere più più avanti l'atalanta ci sta che sia lì la sandoria è una piccola sorpresa che per ora è lì nelle zone alte in quinta posizione barra settima posizione in zona europa quindi abbiamo la roma a 8 insieme al verona e il verona io credevo che anche questo che quest'anno avrebbe fatto fatica perché ha venduto con bullà venduto ambrabate venduto questo venduto quell'altro hanno preso dei giocatori buoni lo stesso hanno un juric che ormai fa giocare bene la squadra e il verona è lì zitto zitto cacchio cacchio 8 punti in posizione tranquilla poi abbiamo fiorentina cagliari e lazio a 7 sono in zona quindi nulla da da dire un pochettino dietro magari la lazio poteva essere un attimino più avanti però va bene per ora è lì quindi il benevento a 6 ibrido come si suol dire spezia 5 genoa e parma 4 bologna udinese a 3 torino e crotone a 1 ecco il torino vederlo lì a un punto francamente io credo che il torino quest'anno lottare per la lotta per retrocedere non credo non credo non ha la squadra così scrausa tra virgolette che non può raggiungere tranquillamente una zona salvezza stra tranquilla ha iniziato male ha iniziato male non so se è colpa di giampaolo eccetera io direi che io francamente il torino aspetterei a cambiare l'allenatore in un periodo in cui puoi cambiarlo e gli lasci anche il tempo per dare un input iniziale alla squadra perché se lo cambia al volo e due giorni dopo devi giocare non è che può fare miracoli però se la squadra è con il mister eccetera io francamente come dico sempre io gli allenatori li caccio se mi arriva i veterani o quello che è i senatori della squadra che mi dicono caro presidente noi questo allenatore non lo vogliamo allora se c'è la delegittimazione della squadra io l'allenatore lo caccio amen mi costa quello che mi costa eccetera ma lo caccio ma se la squadra è con l'allenatore prima di canciarlo ci penso non una ma due o tre volte e soprattutto guardo anche la rosa della squadra se la rosa della squadra è scarsa faccio anch'io mea culpa e dico signori non possiamo pretendere i miracoli dall'allenatore la squadra è quello che è facciamoci sto campionato succeda quello che deve succedere e amen prima di concludere vi vado a dire la sesta giornata così vediamo subito se c'è qualche partita di un certo livello allora la sesta giornata abbiamo bologna cagliari che già una partita da libidine crotone atalanta che già un'altra partita da doppia libidine inter parma vabbè poca poca roba napoli sassuolo ecco questa è una grandissima partita da grandissima libidine che potrebbe regalare tanto spettacolo questa è una partita che veramente ci si diverte io credo che napoli sassuolo regalerà spettacolo così come anche roma fiorentina poi c'è il derby di genova subito alla sesta giornata grandissima libidine sandoria genova e attenzione perché la sap teoricamente è favorita ma quando una squadra al derby è favorita poi succede il patatrac poi spezia juventus teoricamente la juve dovrebbe vincere perché se pareggia anche con lo spezia mi sa che vedo in grave dangeros il signor pirla pirlo 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 scusate pirlo pirlo l'andia poi abbiamo un torino lazio con un torino forse rinfrancato dal pareggio di sassuolo con beffa finale per il gol di caputo all'ultimo minuto o giù di lì un udinese milan in cui tutti sono lì convinti che il milan a udine becchi ma io credo che il milano pareggia o vince ma non perde e infine abbiamo un verona benevento con un verona che ha la grande occasione per mettere ancora un po di fieno in cascina per il futuro battendo benevento ma non sarà una partita facile perché il verona ha dimostrato con la juve di sapersela giocare eccetera però di far fatica a fare gol e siccome il benevento è una squadra che sa difendere sa attaccare il verona credo che farà parecchia fatica probabilmente vince ma con over ci saranno tanti gol in verona benevento secondo me detto questo ragazzoli io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ciao